Le Concept Feeder sono canne di alto livello tecnico realizzate con fibre di carbonio a medio e alto modulo, con rinforzo radiale in carbonio ultralight che conferisce sottigliezza estrema alle sezioni, reattività nello strike e resistenza in combattimento. Con le Concept potrai affrontare qualsiasi pescata a feeder anche la più impegnativa. I test effettuati dal team Lenza Emiliana Feeder evidenziano come la disposizione degli anelli in sic lungo la spina della canna determini una perfetta azione parabolica, indispensabile per portare a termine i combattimenti con carpe e grossi barbi. Porta mulinello VSS ergonomico. Impugnatura stabile e confortevole con rivestimento in sughero di alta qualità. Ogni Concept è dotata di tre cime. Tre quarti d'oncia, un'once, un'once e mezzo. 11 e 12 piedi le misure disponibili nel modello light. 12 e 13 piedi nei modelli medium e medium light. Abbinate al mulinello Riobi Toda esprimono al meglio tutta la loro efficacia e potenza. Tubertini Feeder. La sfida continua.